La guardia medica notturna in Toscana non sarà sospesa. L'ordinanza della Regione, che prevedeva la consulenza telefonica dalla mezzanotte alle 8 per liberare medici da destinare all'emergenza Covid, è rimasta di fatto solo sulla carta. Il provvedimento è stato oggetto nelle scorse settimane di diverse polemiche, da parte dei medici, dei cittadini, ma anche dei politici di ogni schieramento. E la Regione adesso ha fatto dietro front. Già qualche giorno fa l'assessore alla salute Simone Bezzini aveva dichiarato che si tratta di un piano da attuare in caso di necessità, ma il passo decisivo è stato fatto a seguito dell'ultima assise regionale di martedì, nella quale il Consiglio ha votato all'unanimità un ordine del giorno che sospende e invita a modificare l'ordinanza dell'11 novembre. Il governatore Eugenio Gianni in quel contesto ha ribadito in risposta alle diverse polemiche, si è sollevato un finimondo ma non è stata assaltata neppure una notte e non avremo mai sospeso il servizio nelle zone più delicate.